Ciao a tutti, benvenuti all'ultima puntata, siamo rimasti bloccati prima del passo Rotang a 3.800 metri, è cominciato bellamente a nevicare perché ieri ci siamo rifiutati di andare con l'autista che frenava senza motivo, non riusciva più a tenersi in piedi, c'era il babbo che per tenerlo sveglio si era inventato di pulirgli il finestrino, quindi quando lo diceva che sabbiocava gli faceva i clean, là puliva tutto, con un'israeliana simpaticissima invece che gli teneva compagnia, lo faceva fumare, faceva una buona sigaretta, quello no, poi dopo un po', una buona sigaretta, no, e quindi ecco siamo rimasti in questo fantastico cottage di montagne malayano pulitissimo, a lume di candela perché stasera manco la corrente c'è qua, quindi sicuriamoci, ieri abbiamo dormito insieme a dei ragni bellissimi e oggi siamo stati tutto il giorno dentro un autobus sperando che partisse, ma non è partito, altro da aggiungere qua? Bene, ciao ragazzi, grazie per la compagnia.